Altro che mercato chiuso, in entrata e in uscita le porte restano aperte. Dopo le rescissioni con Ciccio Tavano e Simone Petricciuolo, toccherà ad Angelo Rea liberare l'almadietto dello spogliatoio. Se non si concretizzerà il discorso col Melfi, dove gli hanno proposto un biennale, il difensore di Pomigliano potrebbe lo stesso trovare l'intesa con la dirigenza, decisa a sfoltire la rosa come richiesto da Mimmo Toscano. L'allenatore calabrese, che non ha affatto digerito l'uscita dalla Team Cup, resta in trepidante attesa di LASIC, centrocampista slovacco sul quale ha da tempo dato l'assenso devito. La trattativa per riportare in Italia il 24enne dello Slava, squadra estromessa dell'Europa League, vivrà martedì prossimo la sua giornata decisiva. Il presidente dello Slovan, Batislava, che lo aveva dato in prestito proprio allo Slava, impegnato in Europa League, al rientro dalle vacanze ha fissato per la mattinata di martedì un appuntamento telefonico con Taccone. Tra domanda e offerta la differenza non supera i 30.000 euro. Insomma, salvo colpi di coda e improbabili rilanci, l'affare potrebbe andare in porto, anche perché l'Avellino si è detto disponibile a sborsare oltre 100.000 euro per il cartellino. L'impressione tuttavia è quella che il club slovacco non voglia fare sconti, visto che proprio ieri, da Mienti vicino alla Società dell'Est, è circolata la voce di un interessamento del Bari che avrebbe chiesto notizia del calciatore. Ipotesi poco probabile se si pensa che di recente il Bari ha ufficializzato l'arrivo di Bascia, come spesso avviene in sede di mercato, quindi potrebbe essere stata una semplice azione di disturbo o una voce fatta circolare ad arte per alzare il prezzo. L'ASIC del resto in Italia è ben conosciuto dagli addetti ai lavori per le sue 40 presenze disputate con la maglia del Brescia al fianco di Marek Hamsik. Nato come esterno basso di destra, il calciatore è stato negli anni trasformato in un mediano dal grande temperamento. Non a caso De Vito e Toscano lo ritengono perfetto per andare ad occupare la casella over lasciata vuota da Mariano Arini. Cifre ben diverse da quello dello slovacco, intanto, sono quelle che girano in turno al nome di Davide Biraschi. Sul centrale dell'Under 21 ha messo gli occhi la Fiorentina, ma un timido interessamento è stato espresso pure da Bologna e Genova. Con il club viola comunque il contatto è giornaliero. Di fondo va comunque detto che l'Avellino non ha alcuna intenzione di privarsi dell'ex Grosseto per due ragioni. Serve a Toscano e tra un anno potrebbe valere oro. Per questo motivo la scorsa settimana Taccone e De Vito chiesero a Pantaleo Corvino 3 milioni di euro, un milione subito e due nel 2017 con l'aggiunta del prestito di Riccardo Bagadur, ex Salernitana. Con l'esperto direttore sportivo Viola si affronterà nuovamente il discorso dopo Ferragosto, anche se il responsabile del mercato della Fiorentina, pur confermando la trattativa e l'interessamento per Biraschi, ha ieri lasciato intendere che per quest'anno cerca un difensore esperto da mettere a disposizione di Paolo Sosa. Un altro indizio per pensare che l'affare possa comunque andare in porto con la permanenza per un altro anno in Irpinia del roccioso calciatore romano.